Buongiorno da Edo, è estate, quindi caldo, sole, mare, incendi, crisi di governo, potreste non esservi accorti che è passata una legge importante che potrebbe definire, cambiare il futuro di internet così come lo conosciamo in Europa e già lo sta facendo in realtà, è una legge europea ed è la legge sui mercati digitali o Digital Market Act. Che cos'è? Ve lo riassumo in un paio di minuti così siete poi più informati, si applica intanto alle grandi piattaforme online e c'è una definizione naturalmente di grandi piattaforme online, cosa sono? Sono quelle con oltre 45 milioni di utenti attivi al mese e con un fatturato di almeno 7 miliardi e mezzo di euro. Vado a vedere sul sito della Commissione Europea che riassume le norme principali che compongono questa legge e le vediamo un po' insieme. Allora, che cosa dovranno fare? Le grandi piattaforme digitali, chiamate anche gatekeeper dalla Commissione, dovranno garantire che l'annullamento dell'abbonamento ai servizi di piattaforma di base sia semplice quanto l'abbonamento. Quindi naturalmente dalle app, dei grandi social network, delle grandi piattaforme dovrete avere la stessa facilità di disiscrizione e di annullamento del vostro abbonamento così come avete un'enorme facilità di iscrizione. Poi dovrete garantire che le funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea siano interoperabili, ossia consentano agli utenti di scambiare messaggi vocali o file attraverso le piattaforme di messaggistica. Quindi un file audio condiviso su WhatsApp lo potrete poi scaricare e condividere su Telegram, per esempio. Dare agli utenti commerciali l'accesso ai loro dati per prestazioni di marketing o pubblicità sulla piattaforma. Questo in realtà già molti lo fanno, cioè è l'accesso praticamente ai dati di tracciamento, dati raccolti, le informazioni raccolte sugli utenti che poi vengono utilizzate ai fini di profilazione pubblicitaria. Dopodiché ci sono cose più tecniche e poi cosa non potranno più fare i gatekeeper? Non potranno boostare i propri servizi, le proprie app, quindi dare una classificazione più favorevole ai propri servizi rispetto a quelli di altri operatori di mercato. Si commenta da sé. E poi non potranno preinstallare determinate applicazioni o software o impedire agli utenti di disinstallare tale applicazione. Pratica che conosciamo molto bene. Non potranno imporre l'installazione di software più importanti, tipo i browser web, come impostazione predefinita. Vecchia questione su Internet Explorer e Windows, ma in realtà nuova questione sui device mobile. Apple ti preinstalla e ti costringe a utilizzare Safari, Google ti preinstalla Chrome, non potranno più essere impostazioni predefinite. Si dovrà scegliere, non lo so. Non potranno impedire agli sviluppatori di app di utilizzare servizi di terzi come pagamento dei servizi all'interno dell'app. E questo, chi sviluppa app mobile, sa bene che un'app che accetti i pagamenti dagli utenti deve per forza a oggi passare dagli servizi di Google e Apple. In realtà Google ha praticamente già recepito questa norma perché è notizia anche questa di ieri o un paio di giorni fa che Google permetterà l'adozione di un sistema di pagamento terzo rispetto al proprio sulle app, però mantenendo comunque una commissione sul pagamento che è dovuta per il servizio. Lo vedremo magari più in dettaglio in futuro. E poi non potranno riutilizzare ai fini di un altro servizio i dati personali raccolti nel corso di un servizio. Quindi l'interscambio di dati personali degli utenti da un servizio all'altro. Quindi, che succede se un gatekeeper viola queste norme? Rischia un'ammenda fino al 10% del suo fatturato totale a livello mondiale. In caso di recidiva, un'ammenda fino al 20% del fatturato mondiale. E se l'inosservanza è sistematica, e quindi questa viene violata almeno tre volte nell'arco di otto anni, si potrà avviare un'indagine di mercato e, se necessario, imporre rimedi strutturali. Quindi, vedete, ci sono cose freschissime e interessanti. Se ne parlate un po' di questo Digital Market Act. Ed è anche molto commentato, perché è una cosa molto potente. E, come ho detto, Google ha già preso dei provvedimenti. Da Apple ancora non si sa. Ma, siccome questa norma entrerà in vigore a settembre, e poi dovrà essere adottata entro sei mesi, c'è poco tempo ancora per adeguarsi. Quindi, vedremo i grossi cambiamenti che questa roba porterà. Basta, ho finito. Spero di aver dato un piccolo servizio utile. È venerdì. Direi che ci adagiamo verso il weekend. E io vi saluto. Ciao. Il cazzo di capelli ho oggi, tra l'altro. E poi perché sono rosso? Non lo so.